Il sole è caldo, è così che si presenta la spiaggia di Termoli in questa prima domenica di settembre. Sono ancora molte le persone che non si lasciano scappare l'occasione per rilassarsi sotto l'ombrellone e per fare un tuffo prima di tornare alla routine quotidiana. Soprattutto residenti, famiglie con bambini, ma anche tanti turisti che hanno scelto Termoli come meta per trascorrere le vacanze. Ultimi giorni di mare e di vacanza, fra un po' si torna a scuola, sei un po' triste? Sì, sono un po' triste. Vengo da Venafro. Vieni spesso al mare a Termoli? Sì, per chiunque mesi. Sono tutte le scuole qua. Mi piace stare qua. Io vengo da Boiano, provincia di Campobasso. Faccio l'animatrice e questi giorni ci sono pochi bimbi per l'inizio della scuola, quindi è un po' più rilassante. Da quant'è che è qui in vacanza? Il vacanza sono venuto qui da venerdì, si storrò tutto settembre. Dalla provincia di Potenza a Cerenzo, un piccolo borgo della Basilicata. Sono tre anni che torniamo qui a Termoli perché ci troviamo bene. Mai stato in vacanza, quindi la domenica quando uno può scendere al mare. Niente vacanza ancora. Io vengo da Torino, però sono di Termoli, sono 40 anni che vengo a Termoli, 42 anni per esattezza. Mi trovo molto bene, è una bella cittadina, molto spaziosa, bella, la spiaggia molto bella, bellissima, diciamo così. Io mi trovo benissimo.